Le tue gambe sono sempre così corte? Mona è un metro e cinquantadue di cattiveria concentrata. Tu non sai quanto vorrei afferrarle quei capelli e poi tirarglieli molto, molto forte. Spencer, lei si è fatta avanti mentre ti occupavi di cose piuttosto delicate. Cose che sono al di fuori del tuo controllo. Ma forse dovremmo entrambi goderci il fatto che queste cose alla fine si siano risolte. Ora possiamo riprendere fiato. Sì, hai ragione. Dai ragazze, siete pronte? Tra poco si comincia. Hai capito cosa succede con tuo padre? Non vale neanche la pena di parlarne. Dov'è il tuo vestito? Sta arrivando mentre parliamo. Vuoi provarlo? No, mi fido. Anche troppo. Devo vedere come cade. Non si sentirà tranquilla finché non saprà che è perfetto. Ciao, io sono Queen. Ciao, piacere di conoscervi. Perché non andate a sedervi mentre mi vesto? Sembra piuttosto affollato di là. Dovrò sedermi in braccio a te. Non sarebbe la prima volta. Giusto? Torniamo subito. Sì. Anche a voi sembravano, come dire, un po' esagerate? Un po', sì. Come mai? Io non ho un cavaliere e tu hai una dama che porta una dama? Ce l'hai un cavaliere, ma non gli hai detto di venire. Le donazioni da questa parte. Dai, grazie. Godetevi la serata. Salve, benvenuti. Sei bellissima. Grazie. Dov'è il tuo auricolare? Tieni, prendi il mio. Devi cercare il disco con il tributo e poi darlo a Noil, ok? Adesso la... Fai un bel respiro. Come faccio ad andarmene? Insomma...